Un caro saluto a tutte e a tutti. Mercoledì scorso il Vice Premier Salvini ha annunciato la chiusura del centro di accoglienza richiedenti asilo di Mineo, il famoso Cara di Mineo, che era ormai svuotato. Il sindacato ha denunciato nei giorni scorsi che a otto mesi dall'entrata in vigore del decreto Immigrazione e Sicurezza, che Salvini ha voluto, i tagli causati dalla chiusura imposta alle strutture per l'accoglienza dei migranti hanno già provocato 5 mila lavoratori in esubero. Secondo una stima dell'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono circa 36 mila in tutto le persone impiegate nelle strutture di accoglienza, senza contare gli psicologi, avvocati, insegnanti di italiano, i formatori. Si tratta per lo più di lavoratori italiani in età compresa fra i 30 e i 40 anni. Quindi con questo decreto ai richiedenti asilo è stata tolta la protezione umanitaria e questi sono stati esclusi dai centri SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, senza possibilità di iscriversi all'anagrafe. È stata anche imposta una stretta sulle domande di asilo. Dei centri di accoglienza straordinaria erano previste figure come, lo abbiamo già ricordato, lo psicologo, l'insegnante di italiano, il mediatore linguistico-culturale, l'assistente sociale. Oggi per queste figure non c'è più posto, oppure i loro orari di lavoro sono stati ridimensionati fortemente. Secondo il responsabile delle cooperative sociali della CGL nazionale Stefano Sabato, al momento siamo arrivati a contare circa 5 mila procedure di esubero, alle quali stiamo rispondendo con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quali sono questi strumenti? Gli accordi di solidarietà, il fondo di integrazione salariale, ma il nostro interesse, dice il sindacato, è poter ripristinare gli ammortizzatori sociali ordinari per far fronte ad una situazione altrimenti molto drammatica e sicuramente molto difficile da gestire.